buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo un display per auto quindi se voi avete un'automobile magari un po vecchiotta con una radio fm senza android auto oppure se volete implementare la vostra automobile di una retrocamera e una dashcam questa è sicuramente una delle soluzioni migliori display molto ampio tra i migliori che io abbia visto veramente fatto molto bene qui c'è l'alimentazione c'è il vano per la sd su cui vengono registrati la dashcam l'uscita audio e l'uscita per la retrocamera poi abbiamo vedete qui una dashcam ad alta risoluzione che può essere anche vedete aggiustata come altezza quindi ve la potete sistemare a seconda della vostra automobile da questo lato non c'è non c'è nulla sopra c'è il pulsante power anche se lei per funzionare ha sempre bisogno dell'alimentazione tramite l'accendi sigari vedete qui si intravede l'hardware e la dissipazione come vi dicevo uno dei migliori display che io abbia visto costa un centinaio di euro su amazon italia io vi metterò il link in descrizione attenzione che questo brand non è un brand qualsiasi è uno dei leader del settore e fa capo al brand mmb che se andate a vedere su sul loro sito vedete che è un colosso che produce moltissimi prodotti per auto box stupendi che io ho anche recensito nel mio in questo canale quindi attenzione a questo brand quando lo vedete non è un brand qualsiasi è legato a mmb e fanno prodotti di qualità e infatti lui è un prodotto di qualità lo capite subito perché in confezione loro mettono la sd da 64 euro di marca quindi non una sd chip mettono la retrocamera adesso la tolgo della confezione se volete la montate se volete non la montate eccola qua vedete la risoluzione della retrocamera e naturalmente un lungo cavo per poterla posizionare sul retro della della vostra automobile poi ci sono le istruzioni in confezione e già qui capite che abbiamo android auto e carplay wireless e poi un potente adesivo se la volete incollare al al cruscotto oppure ci sono i fori se la volete avvitare non è presente una pinza per attaccarla al vetro quella se mai la dovete comprare a parte ma ce ne sono di valide su su aliexpress o anche sulla stessa amazon allora abbiamo visto come è fatto vediamo come funziona e lo vediamo rapidamente perché le funzioni sono sono poche allora questa è la registrazione vedete qui c'è la cam lui registra ci deve essere inserita la sd altrimenti la registrazione non può non può avvenire ora per tornare al menu principale sapete che non mi ricordo come si fa vediamo un po ecco così poi quindi qui per rivedere i video fatti dalla dashcam qui è android auto perché io in questo momento sono connesso con il mio samsung che android 14 lo facciamo alla fine le uscite audio vedete la potete collegare o sfruttare la sua cassa integrata che dopo ve la faccio sentire è veramente ottima oppure attraverso tutti i metodi possibili fm quindi voi sulla vostra radio fm mettete la stazione 87.5 e ascolterete la android auto o quello che è in riproduzione in quel momento oppure l'uscita attraverso il cavo vedete che però non è in dotazione il cavo audio maschio maschio lo dovete comprare ma ha un prezzo irrisorio oppure la soluzione che vi consiglio è quella tramite bluetooth quindi potete collegare alle casse di bluetooth qual è il problema che in questo momento sono connesso ad android auto quindi il bluetooth è occupato da android auto con questa soluzione dovete scegliere o riproducete android auto o collegate alle casse della dell'automobile e purtroppo non c'è soluzione perché android auto utilizza in combo il wifi e il bluetooth e allora torniamo al menu principale c'è la lingua italiana con cui che io ho già settato queste sono le impostazioni come vedete sono sono poche e semplici vedete c'è poco da c'è poco da disquisire insomma la risoluzione della cam e poco altro perché lui non ha il play store lui è un display basico come funzioni cioè alla funzione dash cam alla funzione retro camera e alla funzione android auto carplay wireless che però funzionano benissimo ecco qua allora ecco qua vedete si è collegato in un battibaleno potete sia splittare la schermata cioè da un lato avere la dash cam da un lato avere android auto sia potete avere a tutto schermo o lei o lei io in questo momento ho optato per l'opzione splittata ma potete potete anche fare android auto a tutto a tutto schermo allora stavo riproducendo questo brano allora vediamo un attimo ecco qua in riproduzione android android auto con spotty fai ok ragazzi si prende allora mi sa che in questo momento ah vedete ecco non sentivo perché avevo messo l'uscita audio su cavo invece io adesso voglio ho messo speaker e si sta sentendo perfettamente spotify anche in background vedete si sente bene devo addirittura abbassare perché si sente anche un po troppo alto e guardate quanto sono se lo alzo il touch screen non è male però dovete ecco tenerlo saldo le casse sono molto molto potenti previsioni meteo domani a sharm and shake idem l'assistente vocale funziona perfettamente eccoci qua quindi amici possiamo già andare alle conclusioni perché come vi ho detto lui ha poche funzioni ma perfettamente funzionanti se volete un display spettacolare e android auto nella vostra auto mobile con 100 euro prendete lui se avete bisogno del play store allora dovete spendere più quasi il doppio circa e prendere un display magari della stessa marca perché a me è una marca che vi consiglio e con se avete appunto un play store potete vedere in in marcia magari il passeggero mi raccomando non il guidatore potete vedere netflix e youtube in marcia se invece prendete questo display potete vedere solo tra virgolette android auto e le applicazioni supportate da android auto ottima cassa ottimo display e quindi è un prodotto che mi sento di consigliare come sapete se il prodotto non mi convince ve lo dico questo prodotto mi piace sia il display che l'audio che la velocità in generale non ho provato la retrocamera ma sicuramente conoscendo la qualità di questi prodotti sarà sicuramente valida la dash cam è spettacolare anche solo a vederla guardate che guardate che cam vediamo se riesco a farvela vedere da vicino è è uno spettacolo quindi amici il video è finito vi saluto potete nei commenti fare le domande e magari se avete voglia lasciatevi un like ciao a tutti